buongiorno questa è l'anteprima del webinar dedicato a le divergenze con le bande di bollinger webinar strategico di analisi tecnica e ci guiderà in questo percorso il nostro fidato sante pellegrino buongiorno sante buongiorno a te oggi un bellissimo incontro che vertirà tutta la sua attenzione verso le bande di bollinger e le divergenze per un trading intraday in grandissima forma quindi vi aspettiamo per questa bella avventura infatti io mi chiamo pietro froio sono consulente finanziario di banco bpm di wibank e nel frattempo vi invito a iscrivervi al canale youtube di wibank o la pagina facebook facebook scusate per essere sempre aggiornati sulle nostre dirette ci vediamo tra poco